Portano omaggio al nuovo re, il primo sedile, vanno a posizionare, vanno, sabato, quale è il primo sedile? Sto arrivando a montaglia, vanno a mettere, vanno, sedile con il stemma con tre monti verdi, in campo d'argento, zona alta, barone Pietro Alvarez di Toledo, eletto del sedile, consorte Maria Mendez. Donna Martino di Palatina, Madonna Sofia Felicia, io devo posizionare, vicino a papà e mamma, sabato.